C'è una polemica in queste ore che riguarda i prodotti a chilometro zero. Sapete che è un vanto dell'agricoltura italiana del nostro Made in Italy, ma fino a che punto è giusto tutelarli e valorizzarli se poi si rischiano di danneggiare altre categorie? È una delle tante polemiche correlate alla manovra di bilancio, la finanziaria, che è in sede di approvazione, lo sapete, in Parlamento, perché questa legge di stabilità, l'articolo 47, prevede la nascita dei cosiddetti distretti del cibo. che vengono definiti una sorta di privilegio verso gli agricoltori che potranno vendere i prodotti agricoli già pronti per il consumo, anche con l'utilizzo di strutture itineranti. I rappresentanti dei piccoli e grandi esercizi commerciali, ristoranti e bar, però, protestano e dicono che questa è una misura che favorisce la concorrenza sleale. Francesco Oliva ha sentito Giancarlo Deida, vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Consideriamo ancora una volta un'attenzione particolare al mondo dell'agricoltura, però vorremmo che si rispettasse un principio per lo stesso mercato, le stesse regole. Con questo sistema si dà la possibilità di trasformare, vendere in qualsiasi luogo, anche con mezzi mobili e quindi a questo punto forse aprire anche ristoranti in situazioni in cui non è neanche abilitato. Quindi il principio è sì, tutti produciamo per la qualità italiana, ma se è possibile rispettare stesse regole per lo stesso mercato. Il governo così facendo in che modo sta agevolando gli agricoltori? Fino adesso c'era una norma che diceva che si poteva produrre e vendere sul luogo di produzione. Adesso portandoli alla possibilità di vendere quei mezzi mobili, allocandoli dove li vogliono e appunto metterli a disposizione addirittura stabili, non abilitati, quindi spostandoli al luogo di produzione, a questo punto si entra su un mercato diverso, quello del mondo della ristorazione. Se si vuole fare ristorazione si prendono le autorizzazioni, normalmente si prendono le regole che valgono per tutta la ristorazione. Così facendo gli agricoltori sono gli unici che possono fare un negozio, un ristorante senza che i locali abbiano la rispettiva destinazione d'uso. Assolutamente sì e questo ci preoccupa moltissimo, visto che la ristorazione italiana ha un peso importantissimo nell'accoglienza turistica, ma stia facendo grossi sforzi per essere competitiva. In questo momento si aumenta ancora l'offerta e noi abbiamo dato tanto quest'anno all'accoglienza turistica. Questo è il caso sollevato dalla FIPE, grazie a Giancarlo Deida, rappresentante dei piccoli e grandi pubblici esercizi.